ok buonasera a tutti ripartiamo dal brano la visione l'enigma o l'eterno ritorno dell'uguale da così parlò Zarathustra a voi temerari della ricerca e del tentativo e a chiunque si sia mai imbarcato con ingegnose vele su mari terribili a voi ebri di enigmi e lieti alla luce del crepuscolo a voi le cui anime suoni di flauto inducono a perdersi in barra tra i labirintici già che voi non volete con mano codarda seguir tentoni un filo e dove siete in grado di indovinare vi è in odio il dedurre a voi soli racconterò l'enigma che io vidi la visione del più solitario tra gli uomini ok questo è l'incipit con cui Zarathustra si appresta ad affrontare e ad esporre il tema dell'eterno ritorno dell'uguale Zarathustra Zoroastro abbiamo detto profeta e monaco iranico collocato approssimativamente tra l'undicesimo ed il settimo secolo avanti Cristo oggi però alcuni vorrebbero collocarlo ancora più indietro considerato da Nietzsche un po' il fondatore della morale creatore e fondatore del zoroastrismo e perché perché Nietzsche in quest'opera ricorre proprio la figura di Zarathustra o Zoroastro perché essendo egli il fondatore il creatore della morale e coincidendo spesso nella visione inniciana all'inizio con la fine questo punto l'abbiamo già rilevato e affrontato più volte ecco che colui che è stato il creatore della morale colui che ha annunciato la nascita della morale deve essere anche colui che ne annuncia la fine che ne annuncia il tramonto il tema del tramonto del crepuscolo sappiamo che è molto frequente nella produzione nicciana crepuscolo degli idoli ne abbiamo già parlato il tramonto il tramonto dei valori tradizionali ma sappiamo che il tramonto il crepuscolo la fine di qualche cosa segna sempre anche l'inizio di qualcos'altro per il nostro autore del resto il crepuscolo è quella fase della giornata che precede il tramonto ma anche quella che precede l'alba e non a caso e non a caso nice va a prendere questa questa immagine quindi innanzitutto qui ci rivela a chi vuole rivolgersi vuole rivolgersi ai coraggiosi temerari della ricerca coloro che sono sempre in ricerca di qualche cosa a coloro che non danno per scontato di conoscere già a coloro che vogliono scoprire che vogliono esplorare quindi quelli che in altri termini nice chiama spesso con l'espressione di spiriti liberi gli spiriti liberi quelli che non temono di affrontare baratri labirintici abissi nei quali ci si può perdere tema dell'abisso un altro tema carissimo anice l'argomento stesso la visione la concezione dell'eterno ritorno è da lui stesso definita il più abissale dei suoi pensieri il più radicale quello più sconvolgente e quindi si rivolge qui a coloro che non si limitano a seguire tentoni in filo stiamo parlando di labirinti quindi è evidente qua il riferimento classico al tema del palazzo di conosso al tema di minosse re di creta al tema del minotauro al tema di teseo e di arianna e quindi al filo di arianna ecco voi spiriti liberi non di limitate a seguire un filo già tracciato il filo di arianna che attenzione e qui c'è un bellissimo multisenso perché filo si riferisce sì a questa strada già tracciata ma si riferisce anche al filo logico spesso si usa noi usiamo questa espressione trovare perdere il filo logico ecco e lo spirito libero non si limita a seguire il filo della logica non si limita ad affidarsi alla logica sa che oltre la logica per arrivare ad una conoscenza completa e profonda bisogna mettere in atto anche altre facoltà come l'immaginazione come l'intuizione e infatti prosegue nice dicendo dove siete in grado di indovinare vi è in odio il dedurre non vi limitate non vi accontentate degli strumenti logici della deduzione la dove potete servirvi anche di strumenti diversi alternativi e a volte più potenti come l'intuizione il dedurre l'inferenza deduttiva noi sappiamo fin dai tempi di aristotele il sillogismo aristotelico essere uno degli strumenti fondamentali della logica l'esempio classico di sillogismo aristotelico deduttivo tutti gli uomini sono mortali Socrate è un uomo Socrate è mortale ineccepibile dal punto di vista logico ma come avranno ad osservare parecchi filosofi citiamone uno per tutti Francis Bacon infecondo non aggiunge niente di nuovo a quello che sapevamo già quando io affermo tutti gli uomini sono mortali e già in questa affermazione è contenuta la conclusione del sillogismo Socrate è mortale il sillogismo non fa altro che esplicitare nella conclusione qualcosa che già implicito nelle premesse non aggiunge nulla di nuovo non è creativo e sulla creatività qui come vedremo Nietzsche insiste parecchio a voi soli racconterò l'enigma che io vedi attenzione qui non procediamo per certezze per dati acquisiti e scontati ma ci poniamo delle domande addirittura enigmatiche a voi soli racconterò l'enigma che io vedi la visione del più solitario tra gli uomini abbiamo già visto in precedenza come secondo Nietzsche la solitudine sia spesso una condizione che facilita la ricerca che facilita la conoscenza la scoperta la creazione e noi sappiamo che tutta la seconda parte della della sua vita Nietzsche stesso optò per questa condizione per una condizione fondamentalmente solitaria e così solitario è anche il profeta Zaratustra nel quale Nietzsche stesso si immedesima e qui inizia il racconto di Zaratustra il racconto della sua visione cupamente andavo or non è molto nel crepuscolo livido di morte cupo duro le labbra serrate non soltanto un sole mi era tramontato qui già partiamo con un'immagine estremamente ombrosa cupa lo dice già dall'avverbio iniziale cupamente andavo ma se non bastasse se questo non bastasse poi ci aggiunge altre altre immagini come crepuscolo livido di nuovo cupo duro non soltanto un sole mi era tramontato il tramonto quindi tutte immagini ombrati umbrati tutte immagini legate all'oscurità all'ombra dalla quale lo Zaratustra Nietzsche o se preferiamo il Nietzsche Zaratustra sta cercando faticosamente di uscire in che modo? ce lo dice ce lo racconta un sentiero in salita dispettosa tra sfasciume di pietre maligno solitario cui non si addicevano più né erbe né cespugli un sentiero di montagna digrignava sotto il dispetto del mio piede muto incedendo sul ghignante crepitio della ghiaia calpestando il pietrisco che lo faceva sdrucciolare così il mio piede si faceva a strada verso l'alto direi che qui siamo proprio in presenza di una prosa poetica a tutti gli effetti innanzitutto l'immagine del sentiero ma poi le immagini successive sia visive sia sonore dello sfasciume di pietre maligno quindi avverso un sentiero che non favorisce il nostro cammino un sentiero di montagna talmente ostile che digrignava i denti sotto il dispetto del suo piede il dispetto del suo piede quindi tra il sentiero e il dispetto c'è un rapporto tra scusate sì il sentiero ed il piede c'è un rapporto di dispetto c'è un rapporto di sfida il piede sfida il sentiero il sentiero sfida il piede a percorrerlo cerca di farlo costantemente scivolare e rotolare all'indietro verso l'alto a dispetto dello spirito che lo traeva in basso in basso verso abissi lo spirito di gravità il mio demonio e nemico capitale allora lui si sforza di camminare verso l'alto di elevarsi il cammino della conoscenza quel cammino che già i tragici greci definivano come inscindibile dalla sofferenza non vi è conoscenza senza dolore euripide quindi la conoscenza implica fatica implica sofferenza e implica il contrasto con quello spirito che invece ci trattiene che ostacola il nostro salire il nostro incedere lo spirito di gravità che qui è una metafora per che cosa? per tutto ciò che ancora l'uomo ai vecchi pregiudizi alle vecchie illusioni che gli impedisce di elevarsi di emanciparsi di liberarsi lo spirito di gravità è anche la metafora dell'ultimo uomo quell'uomo che resta vittima passiva del nichilismo e subisce passivamente la crisi dei valori tradizionali e che quindi non ha più nulla a cui aggrapparsi resta basito resta viene appunto spontaneamente da dire annichilito ecco il nichilismo l'annullamento di fronte alla crisi dei valori tradizionali verso l'alto sebbene fosse seduto su di me metà nano metà talpa storpio storpiante gocciante piombo nel cavo del mio orecchio pensieri come gocce di piombo nel mio cervello guardate che immagine fantastica efficacissima ma va a trovare qui per indicare questo spirito di gravità ciò che ostacola il nostro cammino ciò che ci frena e ci trattiene lo raffigura come metà nano e metà talpa nano perché è una deformazione della natura è un'offesa alla natura talpa perché è cieco non sa dove vai non sa soprattutto dove vuole andare il tema la figura della talpa è una figura già presente in Hegel e probabilmente Nietzsche che non ama particolarmente Hegel riprende proprio ironicamente polemicamente qui la figura hegeliana della talpa la talpa per Hegel è l'umanità che scava dei cunicoli sotterranei che si dà da fare che fatica ma non sa e non vede qual è la meta del suo faticare perché non è lei a deciderlo perché a deciderlo per conto dell'umanità è invece lo spirito lo spirito assoluto l'idea con la I maiuscola l'uomo è solo uno strumento nelle mani dello spirito e che lo spirito usa per realizzare se stesso ecco questa immagine passiva della talpa è ciò che qui Nietzsche vuole contestare l'uomo nuovo tutto deve essere meno che talpa meno che cieco deve essere lui a decidere non deve lasciarsi giostrare e dominare da presunte e barra o immaginarie potenze superiori gocciante quindi questa figura ostile che appesantisce il cammino stilla gocce di piombo negli orecchi e nel cervello del Nietzsche Zaratustra e cosa gli dice beffardamente? o Zaratustra sussurrava beffardamente si lavando le parole tu pietra filosofale hai scagliato te stesso in alto ma qualsiasi pietra scagliata deve cadere o Zaratustra pietra filosofale pietra lanciata da fionda tu che frantumi le stelle hai scagliato te stesso così in alto ma ogni pietra scagliata deve cadere condannato a te stesso alla lapidazione di te stesso o Zaratustra è vero tu scagliasti la pietra lontano ma essa ricadrà su di te qui il nano tacque e ciò durò a lungo il suo tacere però mi opprimeva e l'essere in due in questo modo è in verità più solitudine che l'essere solo bellissimo questo cammeo del nano il nano sfida il nano deride il nano usa un linguaggio sarcastico nei confronti del Nietzsche e Zaratustra gli dice se tu miri in alto ma ricadrai in basso usa dei luoghi comuni come a dire tutto ciò che in alto sal cadrà la pietra cade sovente precipitevolissimevolmente quindi la pietra scagliata in alto è costretta dalla forza di gravità ecco lo spirito di gravità a ricadere in basso così come il sentiero ricaccia indietro il piede che lo sfida che cerca di avanzare pietra filosofale lo chiama sarcasticamente la pietra filosofale era legata a quell'illusione degli antichi alchimisti di trovare una formula in grado di trasformare i metalli vili in oro quindi in qualcosa di più nobile l'illusione di potersi elevare l'aspirazione di potersi elevare ecco qui il nano deride questa aspirazione di Zaratustra non ce la farai non puoi farcela e osserva acutamente il Nietzsche Zaratustra essere in una compagnia di questo genere è peggio che essere soli e essere soli ancora più di quando ci si trova privi di compagnia questo si può riferire a tante nostre esperienze di vita quante volte ci capita di sentirci soli in mezzo alla gente pagina 338 salivo salivo sognavo pensavo ma tutto mi opprimeva questo rigo non può ogni volta non può evitare di farmi venire in mente l'atto terzo dell'amletto di Shakespeare dormire sognare sognare forse ma qui è l'ostacolo salivo sognavo pensavo ma tutto mi opprimeva è probabile che è possibile che qui Nietzsche voglia proprio fa riferimento all'opera di Shakespeare ero come un malato stremato dal suo tormento atroce sta per dormire ma un sogno più atroce ancora lo ridesta è proprio quello che teme Hamilton in quella in quella frase del terzo atto dell'omonima tragedia di Shakespeare ma quindi il timore di un sogno ancor peggiore ancor peggiore della veglia ma c'è qualcosa che io chiamo coraggio coraggio questo finora ha sempre ammazzato per me ogni scoramento questo coraggio mi impose al fine di fermarmi e di dire nano o tu o io allora c'è un'arma che noi abbiamo a disposizione per vincere le nostre paure che è il coraggio che non è ignorare la paura non è il non aver paura qui coglie molto molto bene questo aspetto psicologico Nietzsche il coraggio e la capacità di far fronte alla paura di affrontare la paura è il coraggio di porre in linguaggio chirchegordiano un out out a questo punto o tu o io facciamola finita il problema della scelta la scelta e questo il punto fondamentale cosa scegliamo di essere scegliamo di essere l'ultimo uomo o scegliamo di essere lo spirito libero in procinto di diventare oltre uomo questo dipende esclusivamente da noi da nostra scelta ed ecco qui focalizzato in maniera estremamente netta da Nietzsche il tema della scelta a questo punto o tu o io si tratta di scegliere coraggio è infatti la mazza più micidiale coraggio che assalti in ogni assalto infatti è squilla di fanfare ma l'uomo è l'animale più coraggioso perciò egli ha superato tutti gli altri animali allo squillar di fanfare egli ha superato anche tutte le sofferenze la sofferenza dell'uomo è però la più profonda di tutte le sofferenze il coraggio ammazza anche la vertigine in prossimità degli abissi e dove mai l'uomo non si trova vicino ad abissi non è la vista già di per sé un vedere abissi allora noi lo strumento l'arma per reagire alla paura per combattere la paura per combattere lo scoraggiamento lo scoramento l'abbiamo è il coraggio è il coraggio di affrontare la scelta è il coraggio di affrontare la sfida l'arma l'arma più micidiale coraggio e guardate che bella questa immagine il coraggio ammazza che non vuol dire a nulla attenzione vuol dire affronta supera anche la vertigine anche la paura in prossimità degli abissi e del resto dove mai l'uomo non si trova vicino ad abissi l'esistenza umana è tutto uno sfioramento di abissi è tutto un rasentare abissi non è la vista già di per sé un vedere abissi se noi vediamo realmente vediamo in profondità e quindi vediamo degli abissi ogni scelta è un duplice abisso che si spalanca ai nostri fianchi ai nostri lati coraggio è l'arma più micidiale il coraggio ammazza anche la compassione ma la compassione è l'abisso più fondo quanto l'uomo affonda la sua vista nella vita altrettanto l'affonda nel dolore qui c'è un eco shopenaueriana un eco di visione pessimistica della vita ci ritroviamo tra un momento con il solito link